Ma è difensore delle fedi, delle fedi in generale e dunque anche di quelle non protestanti, anche di quelle non cristiane, ma volendo includere anche i musulmani e gli ebrei. Certo, professore un attimo solo, nel momento dell'unzione cosa è accaduto a Mariella, anche per quanto riguarda ovviamente il vestito di Carlo? È stato spogliato di tutti quanti i paramenti che rappresentano il suo status di sovrano, rimasto solo con una camicia, quindi anche per questo viene nascosto il momento di massima vulnerabilità del sovrano. La veste bianca l'ha ricordata il canonico che accompagna tutti quanti i nostri sacramenti di cristiani e ora indossa la super tunica con questa cintura. Anche qui ancora una volta un salto nel Medioevo, mi piace osservare anche la foggia molto strana di queste scarpe con fibbia che francamente riportano a mille anni fa più che le sue solite scarpe allacciate che commissiona da loro. Notavo che le quattro guardie che tenevano il paravento avevano gli occhi chiusi o la testa bassa, perché nemmeno loro potevano guardare la cerimonia dell'unzione, pur avendo la visuale, visto che stavano negli angoli dei paraventi. Ecco, dovrebbe recitare una preghiera adesso, Re Carlo, e anche questo dovrebbe essere un cambio di rito rispetto alla tradizione, sarebbe la prima volta nella storia che un momento del genere entra a far parte del rito. Recivano gli speroni, questi sono gli speroni, questi sono gli speroni, questi sono gli speroni, questi sono gli speroni, la premia delle regali. Sentiamo la traduzione. Grazie per la traduzione. Ci ricordi, Mariela, cosa rappresentano gli speroni? Ecco, in questo momento c'è lo scambio delle spade. Sono tre spade che potrebbero essere. Vogliamo anche ricordare... Sentiamo la traduzione. Ricevete questa spada regale, affinché lei non la porti in vano, ma possa usarla come ministro di Dio per esistere al male e difendere il bene. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Queste tre spade rappresentano la giustizia temporale, la misericordia e la giustizia spirituale. Sentiamo ancora all'arcivesco, forse, ecco, da programma ci attendevamo un'altra, l'altra formula, forse è questa. Ricevete questa spada regale, che sia per voi e per tutti coloro che sono testimoni di queste cose, è un segno, un simbolo non di giudizio, ma di giustizia, non di potenza, ma di misericordia. La spada viene agganciata, Re Carlo si siede di nuovo. Ricevete questo matto, non possa il Signore rivestirvi con il noto di giustizia e con le vesti della salvezza. Grazie. 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 Grazie a tutti. con il popolo. Quindi, come ci diceva il canonico, ci sono dei suggeriti che ricordano proprio l'ordinazione degli altri primi e dei presbiteri. Il momento del guanto. Ricevete questo guanto che possiate esercitare l'autorità con dolcezza e grazia, confidando non nel vostro potere, ma nella misericordia di Dio che vi ha scelto. L'onore del popolo è anche il segno del potere regale e della giustizia. È il bastone dell'equità e della misericordia, simbolo dell'alleanza e della pace. Lo Spirito del Signore che unse Gesù nel suo battesimo, unga anche voi, oggi, affinché voi possiate esercitare l'autorità con saggezza e dirigere i vostri consigli con grazia, affinché attraverso il vostro servizio, il vostro ministero a tutto il vostro popolo, la giustizia e la misericordia siano visibili in tutta la terra. Scetro che segno del potere regale e della giustizia è bastone invece dell'equità e della misericordia. Ed ecco il momento dell'incoronazione. Re dei Re e Signore dei Signori, benedici che preghiamo questa corona e santifica il tuo servo Carlo, sul cui capo oggi la pone come segno di maestà regale, affinché si è coronato con il tuo benevolo favore e si è colmato di grazia abbondante e di tutte le virtù principesche. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che con te e lo Spirito Santo vive vero e igna supremo su tutte le cose. Un solo Dio, senza fine. Amen. Dio, salvi il Re. Dio, salvi il Re. Salve di Cannone, sparate. Ed è il momento delle fanfare. Chiedo a tutti voi, veramente un'impressione rapidissima perché è il momento della corona in testa, a Re Carlo. Per Gesù Cristo, non la sentiamo. Ma nessuno di noi si è coinvolto. Il suo pensiero deve essere preso in giro, indubbiamente un passo falso. Canoni, piccoli problemi, ma l'umanità deve riflettere anche in un momento glorioso dei vostri tempi e il timore del Signore, il vostro tesoro. La libertà felice vi accolga all'ultimo nella gloria immortale. E la benedizione... E la benedizione... Camilla, però vi devo chiedere che impressione di far Carlo... Se dovesse cascare la corona non si parlerebbe d'altro per i prossimi dici anni. No, infatti, professore, neanche io ho toccato questi livelli di blasfemia durante la diretta in queste due ore. Quello davvero potrebbe essere... Meno male, meno male. ...motivo di abdicazione. Assolutamente. Ecco, stiamo vedendo la corona della mamma, 70 anni fa, anche in quel caso non era proprio... C'era stato qualche problema, Mariella era leggermente storta? E sai, è difficile, a meno che non sia stata incollata, inchiodata, reggere un peso che ha tra l'altro una base di ermellino, io sfido chiunque a camminare con paramenti, come vedete lo devono sorreggere, vestiti lunghi, pesanti, sicuramente che non lasciano movimento agli arti superiori con cui tutti quanti ci aiutiamo per l'equilibrio. Lo scendro, io devo dire che in questo momento è davvero... è forse la prova più pericolosa dell'intera cerimonia. I pochi sono ancora aperti, direi, oggi è il compleanno del loro bambino, Archie, e pare che sia questa la scusa ufficiale per cui Harry abbandonerà la cerimonia subito dopo il rito, proprio per tornare a festeggiare con la famiglia. Non è detto che Meghan non scelga a un certo punto di apparire o di postare un video, un'immagine di Archie attraverso, come hanno fatto anche in passato, il sito o l'account social di un'associazione a cui lei e Harry sono legate.